Arte e cultura è anche un aiuto a chi si occupa dei più deboli, la cassa di risparmio. Questa volta ha scelto la Croce Rossa Italiana. La Croce Rossa Italiana è un'istituzione che festeggia i 150 anni. La conosciamo, ne abbiamo sempre apprezzato, quindi quando la Presidente Fizzarotti ha chiesto un aiuto in questo momento di bisogno del disagio sociale, sanitario, noi abbiamo fatto la nostra parte. E sono contento perché oggi che vedo quest'auto abbiamo ben speso i nostri soldi. Taxi sanitario si chiama in gergo. È un furgoncino scudo attrezzato con due pedane, una delle quali, fabbricata in America, può trasportare sette persone fino a quattro carrozzine per disabili. La cassa di risparmio di Puglia ha deciso di consegnarlo alla Croce Rossa nella piazzetta antistante il Circolo Unione. Per cosa verrà utilizzato questo mezzo? Sarà utilizzato per tutti coloro che con diversamente abili avranno bisogno di trasporti e aiuto. In futuro il taxi sanitario potrebbe essere utilizzato anche per il trasporto di organi nel caso di trapianti.